Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Siamo in compagnia questa sera con la professoressa Gabriella Valera, docente di storia presso il Dipartimento di Studi Umanistici della nostra Università di Trieste, ma anche direttore del Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile, da lei stessa fondato. Mi perdono, mi perdo un po' con le tante sigle. Un po' lungo e una si perde. Buonasera, benvenuta, ben ritrovata, perché abbiamo già avuto l'occasione di incontrarci nelle nostre trasmissioni. Allora, questa sera in particolare tratteremo un argomento riferito a un grande convegno che si è svolto qui a Trieste, che ha fatto tappa in altre importanti città europee, anche extraeuropee, vedo qui dall'elenco. È organizzato il nono congresso dell'International Society for Cultural History, un'associazione a cui, leggo ovviamente dalla presentazione, aderiscono storici della cultura di tutto il mondo. Ecco, vedo che si è trattato dell'ottavo, nono congresso annuale della società internazionale, appunto, che ha trattato un tema di scottante attualità, gender and generation. Quindi, il genere, inteso appunto, in un senso che adesso lei andrà ad illustrarci, è il suo rapporto con le generazioni. Negli spazi, nei tempi e attraverso le relazioni, in una prospettura storico-culturale, proprio per precisare. Allora, vogliamo, io direi, due parole sulla società, capire quale è la società. Perché la società è nata da un gruppo di studiosi che si sono riuniti a Daberdin, per la prima volta nel 2007, e lì hanno proposto, appunto, di fondare questa società perché il discorso sulla storia della cultura, allora si parlava ancora di storia della cultura, più ancora che di storia culturale, era un discorso molto ricco di implicazioni. E quindi si pensava, lì a Daberdin, di fare, in un convegno che era intitolato Varieties of Cultural History, cioè le varietà della storia culturale, si pensava appunto di organizzare una società che potesse prendersi cura di questa metodologia, di questo modo di fare storia. E questo è stato il primo... C'erano storici molto importanti, Peter Barck, che è uno dei, diciamo, dei padri fondatori, anche uno degli storici più eminenti in questo ambito, insieme con Pascal Orie ed altri. E così si cominciò a pensare ad un altro congresso, che sarebbe stato quello a Ghent del 2008, dove il tema era orientations, quindi orientamenti, dalle varietà si passava agli orientamenti, in cui la società appunto venne fondata. Io ero là, c'è stata molta emozione, c'è stato molto dibattito, e c'è stato questo momento in cui questo statuto circolava fra le centinaia di persone che erano lì, e in cui tutti firmammo per fondare questa società. Questa è stata un po' la nostra storia. Da allora la società naturalmente è cresciuta, ha affrontato problemi di vario genere, e di anno in anno si organizza un congresso, ogni anno in una città diversa del mondo. Quest'anno siamo riusciti, adesso sono io riuscita ad averla, prima mi prendo questo merito, ad averla a Trieste. E ogni anno su una tematica diversa, ogni anno sempre con le stesse modalità di partecipazione, e quindi siamo quest'anno alla nona, al nono congresso ufficiale. E credo che sia stato un congresso di grande successo, veramente, da ogni punto di vista. Forse proprio per il tema che ho lanciato, Gender and Generations, che è un tema di impatto, direi quasi emozionale, oltre che teoreticamente forte. Impatto emozionale perché tutto il discorso sulla teoria di genere, e sulla storia di genere è un discorso che è stato portato avanti per anni, tra l'altro anche l'Università di Trieste ha portato avanti questo discorso attraverso i vari corsi di storia delle donne, di genere delle donne, e d'altra parte il discorso sulle generazioni è un discorso che io porto avanti, ormai da molto tempo, promuovendo le molte iniziative che ormai i telespettatori di questa trasmissione conoscono, che sono dedicate ai giovani, avendo fondato appunto questo centro studi che non a caso ha promosso il congresso insieme con altre realtà molto importanti. Quindi teoria di genere che diciamo non nasce però qui in Italia, nasce all'estero, noi in qualche maniera andiamo a recepire e magari ad integrare perché comunque non è che siamo un popolo che subisce così passivamente. La storia delle teorie di genere naturalmente è molto lunga, anche questa ormai ha i suoi buoni 50 anni almeno, almeno, perché è legata anche con tutti i movimenti del femminismo eccetera. Naturalmente in questi anni è molto cambiata, la teoria del genere non riveste più soltanto un interesse per la donna, per i diritti delle donne, come pure è stato scritto sul piccolo il titolo dell'articolo dedicato e derivato dalla conferenza stampa, era i diritti delle donne. In realtà la teoria del genere ormai investe tutti i generi, le loro relazioni reciproche, le trasformazioni, quindi veramente le pari opportunità. Io ho avuto molto piacere che al nostro congresso abbiano portato il loro saluto alle commissioni di pari opportunità sia di provincia che di regione, che ci sia stata la presenza dell'assessore regionale che peraltro portava il saluto della Presidente della Regione Serracchiani. Perché ho avuto piacere? Perché ero convinta che portare un discorso di questo tipo, che è profondamente storico-culturale, perché noi siamo andati ai background storico-culturali in vari paesi, in vari tempi, eccetera, però portarlo anche di fronte alla cittadinanza, facendo sentire come ogni nostra pratica di relazione, che sia politica, che sia economica, a questi background, a questi sfondi storico-culturali molto forti. Per cui noi ci portiamo parole, concetti, idee, giudizi, pregiudizi, pregiudizi, ma anche semplicemente giudizi, anche modi di essere, anche modi di vivere, che sono radicati in una rete di problematiche. Ecco, dipanare questa rete, dipanare questa matassa significa acquistare consacuolezza. Ecco, questo credo che sia l'elemento più forte su cui dovremo lavorare adesso nel rapporto con la città, con la cittadinanza che ha risposto, che è venuta ad ascoltare anche cose in inglese, cioè quindi cose di una certa partecipazione. C'è stata una certa partecipazione, certamente, specialmente dalle associazioni legate al femminile, ma io direi non soltanto, e io credo che con loro io intreccerò un dialogo molto intenso e molto significativo proprio sul tema delle pari opportunità. Quindi dicevo generi, generi, non solamente genere, e poi le generazioni, perché le generazioni, si pensa alla generazione come ad un tutto compatto. Ecco, che cosa è venuto fuori da questo congresso? Che le generazioni non sono compatte, sono segmentate, perché il modo in cui il femminile, il maschile, il gay si accomodano, voglio dire, si prende forma dentro un segmento di tempo che potrebbe essere disegnato dalla generazione, è diverso, perché diverse sono le emozioni, le sensibilità, gli stimoli, le forme di educazione, i rapporti tra i vari soggetti del sociale, i rapporti con il lavoro. Quindi parlare di generazione, non a caso abbiamo messo generations al rurale, parlare di generazione in senso generale, ecco, decostruire, come noi usiamo dire, cioè rendere, risolvere queste categorie generali, risolvere queste categorie generali, nelle loro componenti storiche, che vengono da diverse realtà, da diverse cose, significa acquistare consapevolezza, consapevolezza della soggettività. Ecco, ma in quest'ottica c'è anche un fine sociale, se vogliamo, perché la mia domanda è questa, la teoria di genere spiega e analizza come il pensiero, diciamo la sensibilità, i ruoli sociali si sono sviluppati nell'arco dei decenni, dei secoli, se vogliamo, perché guardate anche a migliorio, guardate anche a matogliero, nei due ruoli, maschile e femminile. Insomma, magari lasciamo un attimino da parte poi quelli che sono i ruoli che sono emersi in maniera così più conclamata, perché anche la società forse ha avuto quell'evoluzione, si è in qualche maniera consapevolizzata, che esistono anche altre espressioni di carattere appunto così, di orientamento sessuale, che sono diverse da quelle, chiamiamole tradizionali. Però la teoria di genere in qualche maniera ha la finalità di uniformare, poi sentire, perché la pari opportunità deriva anche dal fatto che io, in tutto, parliamo dell'Italia, al centro, al nord e al sud, ho una stessa considerazione dell'altro, che può essere uomo e donna, e non vado a guardare in particolare il genere femminile, e da questo deriva poi anche la pari opportunità nella vita sociale. Certo, allora noi dobbiamo fare due, dobbiamo riconoscere due piani diversi di lavoro, che però possono aiutarsi reciprocamente. Allora c'è il piano istituzionale, delle istituzioni che ha il compito di organizzare, secondo schemi, secondo appunto opportunità, secondo filoni giuridici di un certo tipo, i diritti, eccetera. E poi c'è un piano invece, che ha il compito di rimettere al centro, non questa parte istituzionalizzata, ma la parte meno istituzionalizzata. Allora le opportunità cambiano, il concetto di pari cambia, e quindi questi due piani debbono naturalmente confrontarsi continuamente. Le faccio un po' di esempio dei materiali, non dei materiali, ma proprio dallo schema utilizzato per mettere insieme testi che venivano appunto da studiosi che si occupano di cose molto molto diverse, ma sempre in questo grande ambito. Allora, si parlava da un lato di genere e generazioni paradigmi del potere, quindi là dove genere e generazioni sono rapportati e contribuiscono a produrre paradigmi di potere. Dall'altro lato si parlava di pratiche di ogni giorno, ruoli, istituzioni, in rapporto al valore, al lavoro. Dall'altra parte si parlava di identità, cioè tutte queste cose sono tutte cose diverse. Una cosa è l'identità, una cosa è il ruolo, una cosa è la pratica quotidiana, una cosa è il rapporto con paradigmi di potere, tutte queste cose si trovano tutte nella formazione dei generi come filone normalizzato, io dico, di ricerca, cioè secondo determinate regole, e nel filone normalizzato delle pari opportunità, che poi è il filone della democrazia e dei diritti, perché ricordiamoci di Tocqueville, no? Perché si parte dalle pari opportunità di tutti per essere la democrazia. Ecco, tutte si trovano insieme, però sono tutte cose diverse. Allora, appunto spacchettando, diceva lei, ma mettendo, proprio decostruendo, cercando di riportare il tutto alla, ecco qui, alla storia culturale. Cosa significa storia culturale? Non tanto storia delle culture, perché storia delle culture, era un'altra cosa, era, qua c'è una cultura. Noi apparteniamo ad una certa cultura, quindi studiamo la cultura a cui apparteniamo. Invece questa storia culturale, cosa vuole fare? Vuole riconoscere le persone e le loro modalità di entrare e di portare idee, emozioni, diritti, risorse. Ma sono comunque condizionate della cultura condizionate, condizionate ma anche in relazione. Cioè noi se andiamo veramente, poi c'è tutto un discorso sul micro e sul macro, cioè se fare una storia proprio di piccole realtà o di grandi realtà, ma questo non voglio metterlo, perché è un discorso troppo complicato da fare in questo momento e non aiuterebbe. Io uso sempre la formulazione di un altro collega americano che mi è piaciuto molto, che è la formulazione di corpi in movimento. Quando noi andiamo a fare la storia culturale, cosa vediamo noi? Non le grandi complessi di appartenenza, Certo, c'è anche quello, anche quello c'è e ci sono gli storici che si occupano di quello. Ma c'è anche proprio il muoversi delle persone fisiche, corpi non intendiamo solo corpi sessuali, assessuali, proprio le persone fisiche che si incontrano, si parlano, guardano oggetti, danno significati, costruiscono pratiche, costruiscono modelli di relazione, valori che non sono valori assoluti, sono il valore che ciascuno dà all'altro, che ciascuno dà alle cose che incontra e come forma di scambio. E questi sono aspetti che riguardano la storia culturale di vari momenti, di varie realtà e che vanno ogni volta ripensati perché in quei momenti, in quelle realtà, allora succedono altre cose. succede che ci siano intorno a questo dei paradigmi di potere che si costruiscono, dei ruoli, oppure delle forme di liberazione dei ruoli, delle emozioni. Questo significa studiare la storia culturale, questo significa portare dentro la vita, le pratiche, tutte le pratiche, una consapevolezza nuova di che cosa significa essere soggetti e non semplicemente soggetti cittadini in ultima analisi. Certo, però l'analisi di queste pratiche individuali, come lei ha sottolineato, alla fine devono trovare un minimo comune denominatore o un massimo comune per poter essere in qualche maniera come dire, catalogate direi quasi. Perché altrimenti... Il movimento deve essere continuo, il movimento deve essere continuo. le macro-categorie, infatti qua, tutti questi cento interventi, cento storici, erano organizzati secondo macro-categorie. Ma il movimento tra... del confronto tra macro-categoria e lettura della vita concreta deve essere continuo. Le faccio un altro esempio. Noi siamo abituati a studiare o a pensare, diciamo, in generale, chi ha cultura politica o istituzionale, eccetera, è abituato a pensare a singoli autori. Io stessa, prima di diventare una storica della cultura, sono stata più che altro una storica del pensiero politico e della storia politica e della storiografia politica, a lavorare su singoli autori esclusivamente dal punto di vista di una tradizione disciplinare. Allora, c'è il pensiero politico, ci sono tanti pensatori che costituiscono la tradizione, troviamo dei linguaggi, questi linguaggi li ripercorriamo tutti, eccetera. Se riprendiamo, come ho fatto io proprio quest'anno, anche adesso in dialogo con un collega che ho incontrato al congresso, riprendiamo questi autori e li riprendiamo non più soltanto dal punto di vista della tradizione disciplinare, ma dal punto di vista del loro modo d'essere dentro una pratica, dentro un'università, dentro un insieme di... Il microfono dovrebbe vedere così perché non sento i telespettatori, non sento niente, non lo tengo così? Ma sì, ma sì, dai. Evitiamo di che perdano qualche frase che poi è peccato perché poi il ragionamento non viene seguito come dovrebbe. Invece utilizziamo, rileggiamo questi autori come espressione ripeterò. Pausa tecnica, pausa tecnica. Rileggiamo questi autori. Come espressione di una pratica sociale che poi è un discorso già fatto da Foucault, quindi è un discorso abbastanza radicato nei nostri studi, ma lo applichiamo in maniera sempre più forte e allora di quegli autori non leggiamo più soltanto le opere politiche, ma leggiamo anche gli epistolari, le cose che hanno scritto. Ma leggiamo le loro conoscenze. Noi sappiamo, vediamo uomini e vediamo quindi anche il discorso politico, i linguaggi politici, vediamo da dove provengano, come si relazionino, che valori, sempre nel senso di relazione valore, cioè un valore che mette in relazione le cose, non i valori etici assoluti. Comprendiamo molto meglio e diventiamo consapevoli del fatto che tanti linguaggi che ci portiamo dietro sono linguaggi che nascono dall'istituzione, dalla normalizzazione, dalla pratica e vanno tutti rielaborati nella nostra coscienza. questo poi è il valore civile della storia, della storiografia, il suo, quello che viene chiamato nonmente uso pubblico ma tutta la storia deve essere pubblica perché altrimenti non c'è argomentazione, non c'è bisogna avere la capacità, come diceva Ghisù che è un grande storico dell'inizio dell'Ottocento, della prima metà dell'Ottocento, diceva la storia deve avere ragione perché se non riesce a mostrare la sua capacità di dire queste sono le cose non può essere storia quindi in questo senso ecco qualcuno diceva guardiamo al passato anche recente per costruire il futuro questo tipo di studi come può aiutare se ha questo anche indirizzo la società pensiamo alla nostra società ovviamente senza allargare poi anche se oggi magari si ragiona sempre in termini sovranazionali in termini globali addirittura globali ecco c'è forse così la volontà l'auspicio di poter poi dare un contributo mettiamola così alla società senz'altro l'auspicio e la volontà c'è senz'altro e io continuo a dire la grande forza sta nella consapevolezza nella consapevolezza la stragrande maggioranza delle persone anche tra i politici anche ma non per colpa loro perché è un dato di fatto perché è una situazione reale che viene dalle nostre tradizioni parla senza una consapevolezza forte di quello che c'è nei loro discorsi quindi ritrovare questa consapevolezza è estremamente importante che sia facile e che sia così semplice mettere in comunicazione anche per motivi proprio concreti di lavoro di fatiche eccetera mettere in comunicazione le due parti della cittadinanza perché vogliamo dire che la cultura e la politica sono le due parti della cittadinanza e sono rappresentate la politica dai politici dalle istituzioni i migliori come i peggiori o quelli qualcuno considera i peggiori ma insomma sono rappresentati dai politici e la cultura lo stesso i migliori come i peggiori ci sono i bravi e quelli meno bravi anche nell'ambito della cultura o quelli che si considerano più bravi e quelli che vengono considerati meno bravi mettere in rapporto queste due realtà è molto difficile però è fondamentale se noi vogliamo recuperare un'idea di cittadinanza forte che è l'idea che ci porterà nel futuro noi ormai abbiamo perso l'idea di cittadinanza abbiamo l'idea di Stato abbiamo l'idea delle istituzioni eccetera ma l'idea di cittadinanza come luogo delle relazioni reciproche come luogo in cui i soggetti stanno in rapporto l'uno con l'altro e in questo rapporto costruiscono la vita di tutti questo l'abbiamo perso l'abbiamo perso perché? perché appunto c'è stata nella nella nostra tradizione culturale questa separazione le tradizioni disciplinari il diritto la politica eccetera e invece tutto un fluire di vite che non venivano prese in considerazione una consapevolezza di dover di linguaggi di riapertura di discorsi di riorganizzazione dei linguaggi lo stesso discorso che le sto facendo io sulla cittadinanza non è un discorso del tutto diffuso perché in realtà quando si parla di cittadinanza si parla dei diritti di cittadinanza ma io le ho si riferisce in maniera ristretta a quelli di sentire ma io le ho detto un'altra cosa io le ho detto appunto questa elaborazione comune di politica e vita professoressa io credo che dovremmo ritornare su questi argomenti perché comunque richiedono degli approfondimenti che in 25 minuti quanto dura la nostra io spero comunque di essere stata abbastanza chiara sicuramente sì però secondo me c'è ancora tanto da dire per cui intanto la ringrazio presentata con noi questa sera questa prima parte di Trieste in diretta finisce qui grazie alla professoressa Gabriella Valera docente di storia presso il dipartimento di studi umanistici della nostra università qualche istante di pubblicità e poi Trieste in diretta continua con la seconda parte grazie e buon proseguimento